Buongiorno, mi chiamo Silvano Berrioli e sono il direttore medico di PTC Italy. La nostra azienda si distingue nel panorama farmaceutico per la scelta di aver indirizzato tutti i suoi sforzi verso l'individuazione di trattamento per pazienti con malattie rare. Quindi ci rivolgiamo soprattutto a malattie come la Duchenne, malattie particolarmente devastanti che hanno una incidenza per quanto bassa è veramente importante, parliamo di 15.000 giovani ragazzi affetti in Europa. Questi ragazzi sono destinati a perdere progressivamente l'uso delle gambe, poi delle braccia, poi del diaframma, poi del cuore e la nostra azienda ha trovato un possibile trattamento della causa di questa malattia, di una sua particolare mutazione, parliamo della mutazione non senso perché queste patologie di malattie rare sono dovute a delle alterazioni genetiche che per fortuna sono appunto rare, però in questo caso sono differenti, abbiamo dellezioni, abbiamo mutazioni, abbiamo mutazioni puntiformi. Quello che PTC con i suoi scienziati ha fatto è stato riuscire a trovare una molecola in grado di permettere la sintesi proteica di una proteina fondamentale per l'uso muscolare che è la distrofina e quindi abbiamo permesso e stiamo permettendo ai ragazzi che assumono questo trattamento di prolungare il tempo che sono abili a camminare, quindi posticipare la perdita dell'uso della deambulazione e questo potete immaginare per questi pazienti, per le famiglie quanto sia importante. Naturalmente cerchiamo di investigare anche sulla possibilità che questo principio attivo, Ataluren, il nostro farmaco, possa agire anche in altre aree terapeutiche e sempre in altre patologie e mutazioni rare. Questo è quello che sta facendo la nostra azienda e assieme all'organizzazione dei pazienti che ci hanno sempre supportato e anche al Ministero e agli altri stakeholder, contiamo di riuscire a impegnarci ancora di più in quello che è stato finora la nostra mission. Vi ringrazio, è stato importante per noi partecipare a questo premio Galeno perché abbiamo potuto presentare quello che la nostra azienda sta facendo e crediamo fortemente e continueremo perché questa è la nostra mission. Grazie.